Preferisce sposare il profilo basso sin dall'inizio, tenendosi lontano dalle telecamere e rilasciando poche dichiarazioni alla stampa solo al termine del cerimoniale. Il magistrato Antonino Di Maio si è insediato ufficialmente alla guida della procura di Trani, succedendo a Carlo Maria Capristo da alcuni misi procuratore a Taranto. Questa mattina Palazzo Torres ha prestato il giuramento davanti al presidente del Tribunale di Trani, Antonio De Luce, ai rappresentanti dell'Ordine Forense e delle principali istituzioni del territorio. Di Maio, 51 anni, ha lavorato per diversi anni in Sicilia, in Campania e poi nella Capitale, prima del trasferimento in Puglia. Giustizia e informazione ha detto ai giornalisti il neoprocuratore di Trani possono lavorare in sinergia senza dare spettacolo e creare scandali, ma solo basandosi su dati concreti. Di Maio eredita l'inchiesta sulla strage ferroviaria del 12 luglio scorso, in cui morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite. Ed è loggia il lavoro svolto dalla magistratura sino a questo momento. Proseguiremo con il massimo scrupolo sullo stesso solco di chi ci ha preceduto, ha dichiarato Di Maio, per giungere rapidamente con risultati concreti a sostenere l'accusa in giudizio. Ad affiancare il nuovo procuratore non ci sarà più Francesco Giannella, che da pochi giorni svolge ufficialmente le sue funzioni di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Bari. Il suo ruolo nella procura tranese rimane al momento vacante.